Un saluto per la gente, oggi siamo ritornati dopo anni e anni su Among Us per la gioia di tutti quanti voi Per la gioia di tutti voi Ma oggi non siamo da soli signori perché c'è la presenza di un altro individuo sospetto Che si chiama Rare Skozma Cioè io Ciao comunque sono un uomo senza tetto Cioè non ho casa quindi Ah non è casa Da vivere da tutti voi E vabbè Allora Ho trovato questo telefono Lo uso per giocare da Monkast Ah ok Sono partito Anche te Perfetto ragazzi Allora Vabbè come ogni volta Porco Giuda sono di nuovo Vabbè Capiterà qualche volta di essere qualcosa di diverso No ma come il reattore Bisogna aggiustare l'ossigeno Cioè bisogna aggiustare l'ossigeno Pensa qui la Di due Già partiamo male Rates pubblicizza le nostre bellissime live Fammi vedere come sei bravo a pubblicizzare le nostre live Che facciamo ogni Ogni mercoledì Giusto Alle Alle io Allora nulla so Alle nove Vabbè comunque Di sera No di mattina Scusi che cacchino Vabbè comunque ci sta Le facciamo da poco Quindi Vabbè ci sta che non lo sa Allora io voto 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 E voto Questo Perché non Voto Perché ne so Abbiamo votato tutti quanti per buttare fuori quello là Speriamo sia impostore Speriamo Palle non è impostore Bene siamo dei Siamo Siamo degli stupidi Veramente Degli Dissimi stupidi Questa partita non ci sta capendo niente e nessuno Praticamente ragazzi È una partita così Casuale Non lo so L'unico Non l'ho visto Eri te e il nero Io sto iniziando a sospettare Ah secondo O sul nero Sospettare di me No forse è il nero Prima voto il nero Poi se non è il nero Ma però ma ti mando Ma ti mando la registrazione No no ho votato il nero Ah ok Anche io voto il nero Perché Non lo so Mi sta un po' Antipatico mi sta Tu che tasca c'hai? C'ho la tasca Dello smart card Ah io c'ho Tra la comandica Madonna Di nuovo Che palle Cacchio Ehi 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 Vincitori Sono Ehi Vincitori Di questo Bellissimo Lato Ora il nero O eri te Ora il nero O eri te Ora il nero O eri te Vediamo Chi è l'impostore Vediamo Secondo me Ho riparacavi Interferimento Sì Oh chi è Chi è Chi è Lui Ma stavo a fare la tasca Io Eh sospetto Vediamo Dai che palle Veramente Allora Vediamo Io Io sono Odiosi Quando Canali Inizio Eh certo Così almeno I quanti lo votano Se ne va fuori dalle palle Oh Godo come un riccio O se ne va fuori dalle palle Ma Vattene Vaffanculo Il reactor Quindi dobbiamo dare il reactor E dobbiamo veramente unlock No questa è una tasca Infamissima cacchio E' una tasca veramente infame E chi vince Anche stavolta Anche stavolta Bro ti ho battuto Ho battuto tutti Abbiamo battuto tutti quanti Guarda Guarda Occhio Zitto Siamo iniziati Alla partita Vediamo Un po' Ogni impostore Eh Eh Tre quittati Ma già Dai Stavo a farla Tasta Vaffanculo Vaffanculo Sì Te lo dico Te lo dico E' lui E' lui E' lui E' lo buttiamo fuori lui Oh sei te Oh sei te Non sono No Non so Te lo giuro che Non te la faccio C'è Lo giuro che non sono io Voto lui Voti lui Sì Abbiamo sicuramente vinto Perché te non puoi essere Io non sono Io non sono Non è l'impostero Non ci credo Non ci credo C'è ancora C'è E Indovina un po' Chi aveva vinto Un'altra volta Di nuovo C'ho un Do luco Della matosca Io C'ho un Do luco Della matosca Non potete capire No veramente Ma che stiamo scherzando Questo mi sta seguendo Questo mi sta seguendo Dai Oh no 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 Oh perfetto E' il rosso E' il rosso E' il rosso Mod Glossi Quello là Che sono uscito Dalla nobby Raccontami Raccontami Racconta Racconta Cosa è successo Bro 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 Ha laggato Bro Ma siamo noi due Info story Bro Siamo noi due info story No io non ci posso rivedere Perché urli Dai inizio Avevo detto La prossima volta La prossima volta Che diventi impostore Per la quarta volta Mi tolgo le cuffie E me ne vado E infatti me ne sono andato Le promesse di rispetto Perché ragazzi 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 Siamo tutti e due impostori Quindi ci possiamo divertire Esatto Possiamo divertire Nel miglior modo possibile Andando a filare le persone Bro Sabato Aspetta Lo dico io Chiudo In reactor Vai Aspetta no Sono ottenuto Forse non posso Vengendo di fare una tasca Eh se ho chiuso qualcuna Sì sì Vengendo di fare una tasca Perfetto Perfetto Ho ucciso Ho ucciso Ho ucciso Ho ucciso Perfetto Vaffan No Vaffan bagno Ma visto quello forse No Non ti azzardare Non ti azzardare Non ti azzardare Ok 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 Vediamo 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 Ho il countdown A 15 ragazzi 12 11 10 Mi raccomando Porco Giuda No Raga No Raga Aspetta Ingegnere Non mi votate a me Brutti Non mi votate a me Non dovete votare a me Ma che cavolo Mandate a fan Oh No Vaffan Oluk Vaffan Oluk Vaffan bagno Eh niente Eh che palle Dai La quarta volta che diventi postore Con Raresh Un Oluk Pazzesco Ovviamente Devo essere eliminato Perché si snorso Si mi vedono A fa' cose Ma vabbona Vabbiamo Riammazzato Ma vabbiamo Riammazzato Chi vediamo Guarda me Guarda me Guarda me Guarda te Guarda te Va bene Va bene Cioè Praticamente Su Fortnite Faccio schifo Su Minecraft Faccio schifo Su Among Us Faccio schifo La mia vita Fa schifo Praticamente Mi stai dicendo questo Sì esatto Attenzione Un like Un like Un'iscrizione Anzi Un like Terra Ma non si chiedono così Like le iscrizioni Ma te cosa sei Dove stai Nel 1982 I like le iscrizioni Si chiedono così Ragazzi Mi raccomando Sto sapo D'attore Di Mazzdram Lasciate like Iscrivetevi al canale Mi raccomando Perché Perché ai 250 iscritti Faremo lo speciale Del rituale Delle 11 miglia Quindi mi raccomando Iscrivetevi al canale Non perdete tempo Ma io c'ho un'abilità Che si chiama Hunt E io non so cos'è Ma cos'è Tu sai cos'è L'abilità da fantasma Si chiama Hunt Che cosa serve Aspetta io lo uso Tipo Lo uso su qualcuno Stai fermo Ma io non capisco Cos'è Oh Attenzione Allontanarsi dalla linea gialla Nella stiva sta Eh non ci sta più Mi raccomando Oh mi raccomando La prossima volta È un po' più lento Aspetta vediamo 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 Allora Abbiamo quasi vinto Non è vero un cazzo Secondo me vinciamo ragazzi Secondo me vinciamo No No Fra No Non pensare che è possibile No Ma io ho fatto tutto perfetto Pensavo che mi credessero Ma come è possibile Mamma mia Attenzione Attenzione signore Attenzione Lui Allora 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 Ma perché hanno chiamato Già il cacchio di teleauto E mannaggia Alla Lo sai perché 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 mastirolovi Per noi Allora Se avessi di Se avessi di borbottare Magari Si capisce meglio Ok Quello che ti voglio spiegare Che se avessi di borbottare Si capisce meglio Vediamo Ma vabbè Tanto Ma è un borbotto Si tu borbotti È borbottato adesso Praticamente Ma che stiamo scherzando No bro Ma è capito Fra me è capita La tasca Quella là Impossibile Quella de Le cose Come si chiama Non mi ricordo Dai come si fa Io l'ho fatta Inizio a te Sono riuscito Allora 60 minuti Allora 200 chilometri No bro Stavolta 100% Non so io 100% Ma perché Praticamente Non è possibile Che tu capiti Impostore Cinque volte In una partita Cioè È impossibile Che Cosa Io sto Prendendo una tasca No Io anche Ho qualcuno Che ha visto qualcosa Sta Se almeno Finiamo subito Sta cacchio di partita E ne creiamo un'altra No ragazzi Questa partita Io me lo sento Sarà una delle più Facile Che proveremo Perché Vediamo Vediamo Perché No Dai Ma dovevate buttare fuori Quello bianco Ma va Mona Va 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 Mona Va Mona No 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 Fai Mona Io non trovo Il significato Veramente Di buttare fuori Persone Di non poter Manco scrivere Nella chat Liberamente Io non trovo Il significato Di questa Di questa cosa Veramente Allora Aspetta E E Ma perché Ancora Che ci avete da dire Ci avete cosa da segnalare Mettetela chat libera La prossima volta No Ma non è vero Ma piscis Vai Vabbacca boia Veramente Sarà l'influenza Di radice Perché Lui si mangia Il riso Con latte Oh Via 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 Non ci dobbiamo stare vicino a quello Qualsiasi cosa succede Non dobbiamo starci vicino Capito Ok Bravo 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 Ok Perfetto Non puoi Allora No mi hai visto far la tasca bro 3 volte comunque Infatti Vuota un altro E mi hai visto far la tasca bro È impossibile che so io Aspetta Anche io mi hai visto Vuotiamo questo vai Cioè vuota lui Vai Via Nelle stelle Vai via Vai via Ma È lui che l'ho mai avuto Ha vinto Di nuovo Impostore Signori Tutte le partite Sei stato impostore Eh Questo è Colu È semplicemente Colu Attenzione ragazzi E vabbè È 87 volte Che diventi impostore Una volta divento Quello metto Ci sta Ci sta Ci sta Ci sta Potrebbe fatto che qua siamo lenti Anche che Palle Ma potrevate mettere quella più veloce Ma te sei lost No non sei lost Perfetto No io non sono lost Perfetto Andiamo a scaricare questa bella benzina Che non so dove se la porta Questo mino Alla L'upper engine Il motore Dai che palle Modo di fare tutto quanto Ho trovato un corpo Dai ho veramente Ok ho trovato un corpo Io ho trovato un corpo Io ho visto sospetto E la mania Che mi sa Ho visto sospetto Ok la praticamente Dobbiamo rifare Questa roba qua La milionesima volta Non è mai Ah ok Alla vediamo Vediamo se era l'impostore Attenzione No Vabbè comunque Ce ne sono altri da sacrificare Quindi Ah praticamente Ah ma già Ah ma me l'ha sottenuta la benzina E io penso da godino Vabbè comunque Io veramente non so dove sarà Porto sto mino La benzina Dai Mannaggia What Cioè Io volevo votare te Avviamente Ah vi spiego Io volevo votare lui Però vabbè Io dico Comunque Vabbè Fa niente Perché comunque È stato Troppe volte Impostore Come a me Quindi Vabbè Potrebbe anche Essere che non è lui Invece era lui Ma che palle Io mi incazzo Comunque ragazzi Se questo video vi è piaciuto Mi raccomando Iscrivetevi al canale Perché è 250 iscritti Andremo a fare Il rituale delle 11 miglia Quindi mi raccomando Iscrivetevi in tantissimi Attivate la super campanellina E droppate Un bel mi piace Come dice la noma di XD Vi lascia tutto in descrizione Qua Nei Nei consiglia E tutto Prendetelo voi E crofici Se Noi c'è Buongiorno Buongiorno A gente Buongiorno 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 Grazie a tutti.